Conte ha giurato nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo il giuramento del Presidente del Consiglio è proseguito a Colle la cerimonia che ha visto i 18 ministri presentarsi davanti al Capo dello Stato per pronunciare la formula del rito. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Dal termine della cerimonia il Governo è nella pienezza dei suoi poteri. La squadra del Governo è composta da 18 ministri, tra cui 5 donne. Abbiamo assistito alla cerimonia di giuramento, è stato un momento molto emozionante per i giornalisti e per gli addetti ai lavori. Dopo tre mesi finalmente l'Italia ha il suo governo. Da rilevare naturalmente il cambiamento che c'è stato di prassi politica, perché un tempo così lungo il nostro Paese non l'aveva mai trascorso. Naturalmente a questo si possono dare varie letture. Una lettura che personalmente do è che stiamo attraversando un cambiamento epocale e una modificazione profonda di paradigma, anche un po' sulla scorta delle modifiche che la politica estera degli Stati Uniti hanno prodotto nel resto del mondo. Quindi ci sono situazioni molto fluide, molto in movimento. Quello che veniva considerata la società liquida. Bohman parlava di questi momenti della storia in cui le questioni sono molto in divenire e in sviluppo. E noi credo che stiamo attraversando questo tipo di momento. Quindi più che un momento caotico, come tante volte è stato letto dalla stampa nazionale e internazionale, dal mio punto di vista è un momento sì di crisi, ma molto creativo, estremamente creativo. Perché può nascere qualcosa che in qualche modo darà una nuova impronta e un cambiamento non soltanto all'Italia, ma anche all'Europa. Perché bisogna ricordarsi che i dossier importanti sono i dossier che riguardano la politica estera, soprattutto in ambito europeo. Ci sono varie questioni sul piatto da considerare. C'è la problematica dell'Europa nei confronti dei paesi dell'Est, Europa. C'è soprattutto la posizione che l'Europa potrà assumere, la nuova posizione che l'Europa potrà assumere nei confronti della Russia, rispetto all'embargo, ma rispetto anche alla situazione dell'Ucraina, che andrebbe riletta e magari qualcuno all'interno adesso di questo ministero potrà mandare avanti un tipo di lettura diversa rispetto a quella che era stata data prima. E quindi l'Italia potrebbe in qualche modo porsi alla testa di un movimento che in Europa cerca di modificare un po' le questioni. Naturalmente c'è anche la grande questione delle sanzioni che noi abbiamo praticamente in qualche modo ricevuto dagli Stati Uniti, da Trump, rispetto all'alluminio e all'acciaio, che fino a oggi, fino al primo giugno, sarebbero dovute essere forse magari prorogate. Invece poi c'è stata la notizia che questo non sarebbe avvenuto, con tutte le complicazioni economiche e commerciali che possiamo immaginare. Quindi anche questo sarà un test e un dossier che questo nuovo governo dovrà analizzare. E poi naturalmente c'è la questione più importante, che è la questione delle problematiche con l'Iran. Situazione da considerare perché bisogna ricordarsi i due momenti storici importanti rispetto ai quali questo trattato sul nucleare è stato siglato. Obama aveva fatto un'apertura nei confronti dell'Iran e quindi aveva tolto l'embargo nel 2015, quando ci dobbiamo ricordare la posizione dell'Iran in Medio Oriente, nello specifico in Siria, era di debolezza. Questa posizione si è modificata nel corso degli anni ed è importante sottolinearlo. Adesso l'Iran sta vivendo una situazione di forza e di sicurezza. Guarda caso Trump e gli Stati Uniti hanno iniziato questa politica di chiusura e di arresto nei confronti dell'Iran, quasi a voler manifestare quella categoria di pensiero che ha sempre fatto sì e che quando c'è un paese che in qualche modo sta riuscendo ad avere una propria autonomia, individualità, forza, al punto da poter diventare egemone nell'area regionale in questione, gli Stati Uniti devono per forza cercare di contenere l'ipotetico nemico. Quindi c'è sempre comunque un discorso di prevenzione che anche qui sarebbe il caso che magari altri paesi europei con un seguito da parte dell'Italia possono in qualche modo modificare e dare una sterzata ai pensieri che sono dietro alla politica estera dell'Europa.